Buonasera e benvenuti al TG6. Il ferragosto sembrerebbe aver spazzato i venti di crisi all'interno della maggioranza alla regione Abruzzo. Ieri c'è stato l'incontro tra i tre dissidenti, vale a dire i consiglieri Olivieri, Gerosolimo e Monticelli con il presidente della regione Luciano D'Alfonso. Un passo avanti importante anche se c'è ancora molto da lavorare, ha detto Luciano Monticelli. Monticelli è tornato il sereno con il governatore D'Alfonso dopo l'incontro di ieri? Il sereno è stato un incontro importante, forte, leale, trasparente, ma credo che un po' il percorso da fare è ancora un po' lungo. Ci sono ancora temi importanti cui dobbiamo capire meglio qual è l'azione di questa regione e poi cambiare metodo. Siamo rimasti soddisfatti a metà, diciamo così. Ci aspettavamo qualcosa in più, però credo che la possibilità di incontrarsi, di venire a una soluzione migliore, credo che ci siano tutti i presupposti. Però ripeto, il lavoro ha ancora tanto da fare perché permettetici non è che abbiamo voluto giocare. Abbiamo posto delle condizioni importanti sul medo, sulla conoscenza delle attività che la Giunta vuol fare e del riconoscimento sul territorio anche di chi opera a livello regionale come i consiglieri regionali. Monticelli, cosa dovrà accadere in concreto per farvi tornare a pieno titolo a far parte della maggioranza in Consiglio regionale? Abbiamo posto dei problemi quelli sulla sanità, ricordiamo una ferita aperta ancora sulla questione dei punti nascita. Sulla cultura, questa mattina abbiamo incontrato le associazioni per discutere quello che sono i finanziamenti da parte della regione che devono dare le associazioni. Non siamo contro l'ISA o contro Abruzzo Engineering, però l'Istituto Sinfonica Abruzzoese deve capire che ci sono altre associazioni importanti che fanno cultura sul territorio e su Abruzzo Engineering, sono tanti lavoratori delle compartecipate della regione Abruzzo di cui abbiamo noi il dovere di far conoscere quali saranno il loro futuro. Sono cose importanti che ancora riceviamo il totale accordo, quindi secondo me siamo sulla buona strada, però è ancora lunga. Non si chiude in poche ore, in pochi minuti. Se la crisi della maggioranza sembrerebbe aver trovato una sua soluzione, non c'è ancora invece per quello che riguarda la balneabilità del mare sulla costiera pescarese e anche quella chietina nella zona nord. Resta il divieto di balneazione a Fosso Pretaro e questo ovviamente causa malcontenti e proteste. Resta in vigore il divieto di balneazione a sud e a nord di Fosso Pretaro nei comuni di Francavilla al mare e Pescara. Il tratto di mare francavillese, dalle analisi dell'arte effettuate il 14 agosto, i cui risultati sono arrivati oggi, a 100 metri dalla costa risulta ancora non conforme ai limiti di legge, con un valore di Enterococchi di 3.000, mentre il limite è a 200, e di Escherichiacoli di 2.500 rispetto ad un limite fissato dalla normativa in 500. Nel tratto di mare pescarese a nord, situazione simile con i valori identici per gli Escherichiacoli e inferiori per gli Enterococchi. Più prossimi ai limiti di legge i valori a 6 metri dalla riva, fatto che fa ben sperare per le prossime analisi dell'Arta, che sta eseguendo nuovi prelievi fatti a distanza di due giorni l'uno dall'altro. C'è da dire che c'è un trend di miglioramento, perché dall'analisi del 10, qua siamo arrivati dopo il 12, a quella del 14, si vede un trend positivo nel senso che i valori si stanno abbassando. Però dobbiamo dire onestamente che non sono ancora nella norma, quindi il divieto di balneazione permane. Diceva che tutto questo non può inficiare una stagione turistica a Francavilla con numeri da record. Domani ci sarà la festa di San Franco, la grande conclusione con i fuochi. Ma è stata un'estate con presenze in aumento a Francavilla? Sì, le presenze in aumento sono confermate oltre che dai dati che abbiamo visto a livello nazionale, ma dai vari operatori che ci fanno rilevare un assoluto incremento delle presenze. Si iniziano a rivedere i turisti tedeschi, turisti di altre nazionalità. Io personalmente ho avuto modo di constatare questo afflusso, quindi sta andando tutto nel migliore dei modi. Una bella estate francavillese, il 2015 sarà ricordata veramente come una bellissima estate. E nelle prossime ore ci sarà Gloria Gaynor a Francavilla? Eh sì, oggi ci sarà il concerto dell'unica data italiana di quest'artista statunitense, Gloria Gaynor. La stiamo aspettando, ha già postato sulla sua pagina di Facebook già stamattina a Roma, quindi fra poche ore sarà qui e ci aspettiamo tutti un concerto fantastico. E per fortuna che Gloria Gaynor non canta in acqua, perché altrimenti sarebbe saltato anche il concerto. Abbattuti a parte, scarse presenze nel mare, anche se ovviamente le spiagge erano piene, e poco lavoro per coloro che dovrebbero tutelare i bagnanti. Il 15 di agosto purtroppo abbiamo avuto i cartelli con il divieto di balneazione. Questo è stato un danno che sicuramente è stato causato dall'uomo, e quindi noi chiediamo sicuramente il prossimo futuro di un potenziamento degli impianti di depurazione, ma un'attenzione legata proprio a questo discorso per quanto riguarda la difesa ambientale. Certo il danno ambientale è notevole, non è notevole soltanto ai fini dell'attività economica e delle nostre infrastrutture, ma all'immagine tutto il comparto. Dire che mettere i cartelli il 14 di agosto sull'area metropolitana di Pescara, Frangamilla e Montesilvano significa danneggiare l'immagine di tutta l'Abruzzo. Noi come operatori economici dobbiamo mettere intorno al tavolo, insieme ai tecnici e ai politici, di affrontare questo tema perché non si può danneggiare un tratto di costa, perché i depuratori sono insufficienti, allora bisogna fare investimenti per potenziare queste depurazioni. D'altronde parliamo di un inquinamento batteriologico, quindi è un problema risolvibile, non si può aspettare l'estate per mettere i cartelli. Vincenzo Dell'Aquila, il bagnino di questo tratto di spiaggia dove c'è il divieto di bagnazione, per lei in questi ultimi giorni c'è poco lavoro? Sì, anche perché per il fatto che i bagnanti vengono da me a chiedermi il motivo perché c'è il divieto di bagnazione e se possono fare il bagno. Per me il mare, come potete vedere, adesso è pulito. Il divieto di bagnazione per me lo possono togliere, perché per me è una presa in giro. Forse due o tre settimane fa dovevano mettere questo divieto. Questa forse è anche l'idea che hanno i consiglieri di minoranza a Pescara, perché ovviamente sapete che c'è grande polemica per quell'ordinanza firmata dal sindaco Marco Alessandrini e che poi non è stata resa pubblica. Per questo ci sono due mozioni di sfiducia presentate nei confronti del primo cittadino pescarese. Una è già stata sottoscritta da nove consiglieri di opposizione del centrodestra, vale a dire di Forza Italia, Nuovo Centrodestra e Pescara Futura. L'altra invece è stata elaborata dal Movimento 5 Stelle e inviata a tutti i componenti l'Assemblea. A questo punto bisognerà trovare la quadra e unire in un unico documento la mozione di sfiducia. Ma la psicosi da inquinamento delle acque ha caratterizzato il ferragosto pescarese. Vediamo un po' cosa ne pensa la maggioranza. Che ferragosto è stato a Pescara? Tempo così e così, poco mare, situazione, città comunque tranquilla anche dal vostro osservatorio? Il ferragosto è stato all'insegna un po' dell'aspetto meteorologico più che altro. C'era preoccupazione di eventuale pioggia. In sostanza è andata bene, il mare è stato affollato, ci sono state le attività tipiche del periodo. La psicosi da inquinamento ha giocato un ruolo sicuramente importante e di questo insomma che qualcuno si renda conto perché un'economia non può essere messa in crisi soltanto per una contrapposizione politica. Ripeto, massima serietà e serenità nella tutela dei bagnanti e di coloro che vanno al mare. Ma quello che è sentito in questi giorni, che addirittura chi è al confine di Montesilvano ha avuto malori perché per effetto del depuratore di via Reiale, credo che siamo ormai a un clima da caccia alle streghe. Ripeto, sempre nella assoluta responsabilità per la tutela della salute dei cittadini. Ma voglio ricordare, lo faccio adesso ma lo farò anche in seguito e in ogni altra occasione. Le ordinanze che si emettono dai vari enti locali riguardano solo ed esclusivamente dei punti particolari sotto la guida dell'Arta, così come è avvenuto adesso per Fosso Pretara. Il 28 e 29 luglio è avvenuto per via Balilla. Certo, puoi dire che il mare è tutt'uno, ma il mare è talmente grande che riesce anche a superare le diatripe degli uomini. Il giorno di Ferragosto c'è stato come al solito un avvenimento, vale a dire la visita, un avvenimento che si ripete ogni anno, la visita di Marco Pannella al carcere di Castrogno di Teramo. Il carcere di Teramo era finito sotto i riflettori la scorsa settimana per il suicidio di un detenuto. Ebbene, dopo la visita di Pannella, ovviamente i casi non sono collegati, ieri ci sono stati altri due casi di suicidio, fortunatamente sventati da due operatori. E' una lunga scia di suicidi quella che attraversa i bracci del carcere di Castrogno a Teramo. Ieri mattina altri due detenuti hanno tentato di togliersi la vita nel reparto femminile in quello protetti, salvati dal pronto intervento del personale della polizia penitenziaria. Invece nulla avevano potuto gli agenti lo scorso 10 agosto, quando nella notte si è tolto la vita Giovanni Grieco, il 41enne pescarese Reo Confesso dell'omicidio a Coltellate lo scorso 6 maggio davanti al suo negozio di Giandomenico Orlando, titolare di una nota a pasticceria del capologo adriatico. Il gesto di Grieco ha fatto salire a 14 la triste conta dei detenuti che non hanno resistito all'interno del carcere di Castrogno decidendo di farla finita. Ma i dati delle morti in carcere in Italia e di coloro che hanno scelto di mettere fine alla propria vita sono davvero impressionanti. 873 detenuti dal 2000 ad oggi si sono suicidati tra i 2445 decessi complessivi, dati che richiamano l'attenzione in maniera pressante sulle condizioni di vita nelle celle italiane. Proprio in questo ferragosto nella nostra regione il partito radicale guidato da Marco Pannella è tornato all'interno degli istituti di pena focalizzando la propria attenzione proprio sul carcere di Castrogno. Anche il SAP e il sindacato autonomo di polizia da tempo sta lanciando grida d'allarme rispetto alle condizioni di lavoro e di vita nel carcere Terramano. Secondo il sindacalista Giuseppe Pallini il carcere di Castrogno non è più in grado di gestire così tanti circuiti detentivi, alta sicurezza, detenuti comuni, tossicodipendenti, sex offenders, protetti e femminile. Tra l'altro continua Pallini a Terramo bisogna gestire anche i detenuti riottosi e psichiatrici. Il tutto conclude il sindacalista con una cronica carenza d'organico e con il personale che ha accumulato 12.000 ore di ferie arretrate. Purtroppo è stato anche un ferragosto tragico, proprio il 15 ha perso la vita Federica Petraccia, giovane studentessa di Pineto, morta sotto gli occhi del padre. È un fiume di gente questo pomeriggio alle ore 15.30 ha partecipato ai funerali della giovane, si riferiscono le immagini proprio a questo pomeriggio, nella parrocchia di San Francesco a Pineto. Lo stesso padre fino a pochi istanti prima la portava dietro di sé su uno scuterone. Tutta la città di Pineto si è fermata per stringersi attorno alla famiglia Petraccia straziata dal dolore, incontenibile la disperazione ovviamente di parenti e amici che hanno gremito la chiesa per l'addio a Federica. Ancora la cronaca, tre denunciati, quattro auto ed un motociclo sottoposti a sequestro. Cinque patenti ritirate, 150 punti decurtati. E questo il bilancio dei controlli stradali del weekend effettuati dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. In particolare è stato denunciato un macedone di 57 anni residente a Spineto, in provincia di Ascoli Piceno, per guida senza patente perché mai conseguita. Un nigeriano di 34 anni residente a San Benedetto del Tronto è stato denunciato per uso di atto falso, falsa attestazione delle generalità, guida senza patente perché mai conseguita e ricettazione. Infine un 19enne di Santomero è stato denunciato per guida senza patente perché mai conseguita. L'Unione Europea ha chiesto la restituzione delle tasse e dei contributi sospesi dopo il terremoto del 2009 alle aziende aquilane e del cratere sismico. Coinvolte centinaia di aziende che se le cose dovessero rimanere così e senza un intervento deciso della politica rischiano di dover sborsare migliaia di euro. Una doccia fredda in piena estate è la mala sorpresa che arriva dall'Unione Europea per decine di imprese aquilane che nel giro di poche settimane potrebbero dover restituire migliaia di euro. Si tratta dei fondi recuperati dopo la sospensione di tasse e contributi a seguito del sisma che le aziende potranno restituire in 10 anni con un abbattimento del 40%. A stabilirlo è una legge dello Stato che però è sempre subordinata alle regole dettate da Bruxelles. Accade così che per la Commissione Europea non ne avevano diritto quelle ditte che non hanno avuto danni dal terremoto e pertanto queste dovranno o dimostrare di aver subito uno stop alla loro attività o dovranno rimborsare le somme indebitamente percepite al Paese. Questo è il problema che si ripete tutti gli anni e stranamente si ripete sempre a Ferragosto. Non è cambiato nulla, siamo sempre allo stesso discorso, l'Unione Europea chiede la restituzione delle tasse o la prova che queste agevolazioni sono state effettivamente necessarie. Il discorso dell'onere della prova diventa difficilissimo, peraltro non c'è più per le altre regioni che sono state colpite da calamità naturali e questa ovviamente è un'ingiustizia sotto gli occhi di tutti. Per la legge italiana infatti le aziende non hanno l'obbligo di mantenere le scritture contabili per oltre dieci anni ed è praticamente impossibile o quasi individuare un eventuale indebito arricchimento. Insomma, oltre al danno la beffa per le aziende aquilane, al fianco delle quali sono già scesi in campo sindacati, associazioni di categoria e regione, dalla quale attendono la stessa attenzione registrata nelle scorse settimane per Abruzzo Engineering e Sinfonica. Il grosso problema sono i burocrati di Stato, quelli che hanno mancato la comunicazione a suo tempo, sono i direttori dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps e dell'Inail ovviamente, che noi intenderemo chiamare ovviamente in causa. Credo che sia arrivato il momento di menare, come si dice dalle nostre parti. Adesso basta con le mediazioni, credo che Roma abbia esaurito tutti i suoi compiti, i tentativi li abbiamo fatti in sei anni praticamente tutti. Adesso credo che vadano denunciati i responsabili di questa situazione. E credo, alla luce della nuova riforma che c'è stata sulla pubblica amministrazione, sarà il caso di chiedere che queste persone vengano licenziate e che escano dalla pubblica amministrazione. Noi riteniamo che solo un'azione estremamente forte possa portare a qualche risultato, perché il resto lo abbiamo provato sempre. Occupiamoci adesso del collegamento che c'è tra Pescara e la Croazia. In questo primo mese di funzionamento i numeri sono buoni, ma non sono da record. Comunque il bilancio è sicuramente positivo. Un collegamento con la Croazia, numeri incoraggianti per questa prima parte di stagione? Allora, non sono numeri pazzeschi, perché logicamente quest'anno abbiamo un mezzo più piccolo e non imbarca auto. L'anno scorso abbiamo imbarcato camper, auto, bus, quindi erano numeri considerevoli. Quest'anno i numeri sono scesi, anche perché il mezzo va direttamente nei porti di Kvar, di Vella Luca e praticamente di Starigrad. Adesso è aumentato il traffico rispetto ai primi giorni, perché si è diffusa la notizia, è comodo in quanto il catamarano imbarca passeggeri che vanno attenzialmente sui piccoli porti, quindi si fa la vacanza tranquilla. Il passeggero non imbarca auto, lascia le auto qui nel marino di Pescara, c'è un comodo parcheggio a pagamento, custodito, quindi fondamentalmente ci sono anche queste comodità. Leardi, noi ci eravamo visti e sentiti mesi fa quando qui nel porto commerciale di Pescara le cose non andavano granché bene. Cosa è cambiato rispetto a qualche mese fa, se è cambiato qualcosa al di là del collegamento con la Croazia? Ecco, siamo rimasti allo stesso punto, anzi forse le cose non sono cambiate purtroppo. Infatti il mezzo che abbiamo è anche un mezzo piccolo, proprio perché non abbiamo possibilità di far ormeggiare mezzi più grandi, quali traghetti, quali mezzi che ormai sono più consoni a un traffico con la Croazia, con altre nazioni. Purtroppo quello che abbiamo, il porto, può permettere soltanto l'ingresso di questi piccoli mezzi. Un altro degli appuntamenti della seconda metà di agosto è quello che riguarda la tendopoli di San Gabriele dell'Addolorata. Domani con il saluto del Vescovo di Terra Moedatri, Monsignor Michele Seccia, inizierà la 35esima edizione dedicata alla famiglia. Inizia domani pomeriggio al santuario di San Gabriele dell'Addolorata la 35esima tendopoli con il tradizionale saluto del Monsignor Michele Seccia, Vescovo della Diocesi di Terra Moedatri, del Padre Provinciale dei Passionisti Luigi Caminetti e del Rettore del Santuario di Isola del Gran Sasso, Padre Natale Panetta. La tendopoli, che da 19 anni ha varcato i confini del Venezuela e da sei quelli della Colombia, affronterà quest'anno il tema della famiglia sintetizzato nello slogan «La famiglia tenda di Dio», che porterà i ragazzi a riflettere sulla bellezza e il valore della coppia e sui pericoli che la minacciano. Ai giovani che verranno, la tendopoli vuole offrire strumenti adatti per essere persone in una società caratterizzata dalla molteplicità di messaggi e dalla grande offerta dei beni di consumo. I giovani si prepareranno quindi dopo il tendfest animato dal gruppo For Jesus ad accogliere in serata la fiaccola della speranza, benedetta lo scorso anno da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. La fiaccola, portata in staffetta da un gruppo di podisti di Montorio e Alvomano, è partita quest'anno da Loreto, dove è stata benedetta all'interno del Santuario della Santa Casa. Dalla piazza della Basilica i podisti si sono mossi di corsa verso Monte Lupone, dove la fiaccola è stata accolta nella piazza del municipio dal vice sindaco Alberto Muccichini e di lì verso il Santuario dei parri passionisti. Ad accoglierla una delegazione guidata dal sindaco di Morrovalle, Stefano Montemarani. La fiaccola, che si è fermata a Montorio e Alvomano nella collegiata di San Rocco, ripartirà domani sera alla volta del Santuario, dove verrà accolta nel piazzale dello stesso, oltre che dai ragazzi della tendopoli, anche dai sindaci di Isola del Gran Sasso, Roberto Di Marco e di Colledara Manuele Tiberi. Sabato 22 agosto la tendopoli chiuderà con la festa dei giovani e la tradizionale marcia a piedi da Isola San Gabriele. Alle 11 è prevista la messa preseduta dal cardinale Edoardo Menichelli e poi, come tradizione vuole, la foto ricordo davanti al vecchio santuario. La Banca dello Zafferano ha concesso un prestito d'onore consistente in bulbi per l'agricoltura, per consentire la nascita di giovani imprese che si dedicheranno alla cultura e diffusione dello zafferano DOP dell'Aquila. Con la consegna dei bulbi della Banca dello Zafferano a titolo di prestito d'onore, per creare nuove culture della preziosa spezia, si è aperta la festa dei solchi a San Pio delle Camere. All'assegnazione dei prestiti d'onore era presente anche lo chef stellato William Zonfa, ambasciatore dello zafferano DOP dell'Aquila nel mondo. Per me rappresentare un prodotto del territorio, in giro per il mondo, è sempre un piacere. Cerchiamo sempre di rappresentare questo prodotto nel migliore dei modi, perché è un prodotto che sicuramente vale, è conosciuto anche in tutto il mondo. Dobbiamo solo cercare di riuscire ad aumentare e incrementare la produzione per ridare il valore che realmente ha. I solchi scavati nella terra accoglieranno i giovani bulbi per dar vita a nuovi fazzoletti di terra dipinti di rosso e viola in fiore per l'autunno, quando torneranno ad animare i paesi della zona le vie dello zafferano. La festa dei solchi culminerà venerdì 21 agosto con l'aperitivo di gala sul tema dello zafferano realizzato dallo chef stellato William Zonfa. L'aperitivo si svolgerà nel Salone dei Granai presso la Magione Papale. Il gran concerto poi nella Basilica di San Bernardino intorno alle 21.30 concluderà la prima edizione della festa dei solchi. Ed ora la pagina sportiva. Si è esaurita la rappresentanza abruzzese che partecipava alla Team Cup dopo l'eliminazione delle prime tre squadre, vale a dire Lanciano, Teramo e L'Aquila. Ieri c'è stata quella del Pescara. Biancazzurri battuti all'Olimpico di Torino. Dai Granata di Ventura per 4 a 1. E adesso si torna a guardare al mercato e al campionato che inizierà il prossimo 5 settembre. Sarà derby della Mole nel quarto turno di Coppa Italia Team. Questo l'esito della sfida fra Torino e Pescara giocata ieri sera con la vittoria dei Granati in rimonta rispetto al Delfino Bello solo nel primo tempo. Ai Biancazzurri non è riuscita l'impresa che due anni fa mise a segno il Pescara di Pasquale Marino, ma la strada sembra quella buona almeno per quanto visto per 45 minuti. Si comincia l'Olimpico dinanzi a 12.000 spettatori con buona rappresentanza Biancazzurra. Il Pescara gioca con il consueto 4-3-1-2. A sorpresa c'è in campo Valoti anche se non al meglio con Rossi sulla corsia esterna sinistra di difesa. La squadra è di fatto quella vittoriosa con il Sud Tirola, lo stadio Adriatico. L'avvio è di marca Biancazzurra, al terzo Caprari con una conclusione a giro su punizione dai 20 metri. Mette la palla sull'esterno della rete. I ragazzi di Massimo Oddo dimostrano di avere le idee chiare con i Granata che all'inizio fanno fatica a proporre gioco. E così il Delfino a fare la partita e il vantaggio di Fornasier al 17esimo è una logica conseguenza con la rete del difensore di testa dopo la deviazione fortuita del portiere Granata sugli sviluppi del primo calcio d'angolo tirato dal Pescara. Il Torino sotto shock si vede solo al ventesimo quando Baselli crossa in area costringendo Zuparic e compagni ad una affannosa respinta. Ancora Pescara al ventitresimo con Gianluca Lapadula che recupera palla a centrocampo dopo un errore dei difensori Granata e prova la conclusione dalla distanza trovando una deviazione in calcio d'angolo. Al ventisettesimo la difesa Biancazzurra però si addormenta non facendo scattare il fuorigioco e Quagliarella è bravo a pescare tutto solo in area abruzzese l'ex Atalantino Baselli che a due passi da Fiorillo non sbaglia per il gol dell'1-1. Al trentatresimo c'è il sorpasso Granata con Acqua che dopo un rimpallo fortunoso mette la palla alle spalle dell'incolpevole Fiorillo. Gli ospiti cercano di reagire ma al trentottesimo Mattia Valoti sceso in campo in condizioni precarie non ce la fa e deve uscire lasciando il posto a Ransforz e Lasi. Nella ripresa al settimo si rivede la squadra di Ventura con Quagliarella che chiama ancora l'estremo Biancazzurro ad un intervento non facile. Ile Pescara di Oddo prova a spingere ma rispetto al primo tempo nella metà campo Granata ci sono meno spazi. Gli episodi sono tutti per il Torino che al ventitresimo si trova dopo un altro rimpallo favorevole ma anche una disattenzione della retroguardia abruzzese la rete del 3-1 griffata da Maxi Lopez. Gara finita con la qualificazione dei piemontesi praticamente in ghiaccio. I padroni di casa galvanizzati continuano ad attaccare. Dopo metà ripresa c'è l'ingresso in campo di Vittorio Esposito al posto di La Padula, autore di una buona gara. Per l'ex giocatore del Chieti è però una serata sfortunata perché la sua partita dura una manciata di minuti prima di un infortunio alla spalla che costringe i Biancazzurri a chiudere in dieci per l'uscita dal campo del giocatore di origine molisana dopo le tre sostituzioni effettuate. Prima dell'infortunio di Esposito c'è il tempo per vedere al 28esimo il poker di prepotenza del nuovo entrato Martinez che fissa il punteggio sul 4-1. Nel recupero c'è il palo colpito dall'onipresente Quagliarella prima del triplice fischio finale di Massa d'Imperia. Il Pescara saluta la Coppa e da oggi torna a concentrarsi sul mercato per accaparrarsi un attaccante ed un difensore che a luce di quanto visto ieri sera all'Olimpico sembra più che mai necessario. Salamon resta il sogno per la difesa, Boacì per il reparto avanzato. Tante le cessioni in programma da parte della società adriatica. Non è un mistero che al Pescara manchi un attaccante, una prima punta. Ascoltiamo cosa ha detto al termine della partita dell'Olimpico il tecnico Biancazzurro, Massimo Oddo. Sì, vabbè, quello che avevo chiesto era di avere coraggio, di giocare a viso aperto perché deve essere la nostra mentalità. Abbiamo cercato di andare a prendere alti, siamo partiti direi molto bene, hanno fatto secondo me un ottimo primo tempo se consideriamo che davanti abbiamo una scuola di Serie A, quindi ovviamente a volte siamo riusciti, a volte loro sono bravi a girare il campo, però di concetto pensavo fosse più opportuno andare a prendere alti che bassi perché se stai basso loro sono bravi nel palleggio e quindi fai più fatica. Non può essere al massimo, questo è inevitabile, è appena la seconda gara ufficiale, è appena una seconda gara che qualcuno fa per 90 minuti, quindi vale per il Pescara come vale per il Torino e tutte le altre squadre, quindi bisogna prenderla un po' col beneficio di inventario, però io sono contento perché ho visto cose positive, alcune un po' meno, c'è sicuramente da lavorare, ma questo è normale. Il Torino è un'ottima squadra, ha tanta qualità, diciamo che noi non siamo neanche molto fisici, al contrario del Torino e quindi tante volte abbiamo anche un po' sofferto della fisicità. E queste sono ore di palpitazione per i tifosi del Teramo, è attesa nelle prossime 48 ore la sentenza della Corte federale che è chiamata a decidere sul futuro della società bianco-rossa. Ricordiamo che la scorsa settimana nel corso del processo, nell'udienza del processo, la Procura federale ha chiesto la retrocessione in serie D e 20 punti di penalizzazione per il Teramo. Era attesa per oggi la sentenza per il caso Catania, per il processo, il treno dei golli, invece è slittata, dunque molto probabilmente le sentenze con le motivazioni verranno rese note tra domani e dopodomani, tutte insieme. Nel frattempo noi oggi abbiamo ascoltato quello che ci ha detto l'Avvocato difensore del Teramo, Edoardo Chiacchio. Come ci si deve approcciare a questo primo grado di giudizio? Ma con la tranquillità e la serenità di aver dimostrato che il Presidente Campitelli non può essere neppure non veramente considerato il soggetto esposto nella requisitoria del sostituto procuratore federale, quindi siamo tranquilli e sereni di aver fatto tutto il possibile e di aver dimostrato senza ombio di dubbio che le accuse sono infondate. Avvocato, uno dei punti forti dell'accusa era quella fascia oraria che andava da mezzogiorno a luna del pomeriggio dove i dirigenti hanno detto che il Presidente Campitelli era andato in camera a riposare, invece per l'accusa era andato a saldare il conto della partita venduta. Voi c'è una prova che avete portato e che non è poi venuta fuori in maniera così eclatante, si parla di una ricevuta, di un pagamento con carta di credito del Presidente? Sì, ma questo era qualcosa che non era neppure necessario trovare, ma quello che lei ha riferito in effetti è solo una parte della verità storica. Il discorso è questo, il direttore sportivo del Teramo era in quel luogo, in un appuntamento per altri motivi, peraltro come ha dimostrato l'Avvocato Libera D'Amerio, era in quel luogo dalle ore 10.58 e noi penso che abbiamo dimostrato fino alle ore 12 con due testimonianze, ma ce ne sono altre 7 testimonianze prodotte con le indagini difensive. Il Presidente era in hotel con la squadra. Che cosa si aspetta dal primo grado? Che tipo di condanna? No, ma io ne aspetto il proscioglimento di Gambitelli, poi il resto non è conseguenza di questo proscioglimento. Se le cose non dovessero andare così, quante possibilità nel secondo grado ci saranno per conservare la Serie B? Ma io a questo non penso proprio. Chi dimostra con prove provate di non aver commesso il fatto deve esserlo sciolto. E con il proscioglimento di Gambitelli non può che essere riconosciuta la Serie B al Teramo. Queste dunque le parole di Edoardo Chiacchio. Anche all'Aquila si vivono momenti e giorni di tensione e di attesa perché il processo riguarda anche la società Rosso Blu che potrebbe andare incontro a parecchi punti di penalizzazione nel prossimo campionato di Lega Pro. Sofferenza e ansia ancora prima di iniziare la stagione. Sensazioni contrastanti in casa dell'Aquila in attesa di conoscere, probabilmente tra mercoledì e giovedì, la decisione nel processo sportivo seguito all'inchiesta Dirti Soccer. È solo un primo passo in un difficile cammino che non consente di guardare all'inizio del campionato con la tranquillità necessaria per affrontare un'annata che si preannuncia decisamente in salita. In questa prima fase la richiesta della Procura federale è di un punto di penalizzazione e 25.000 euro di ammenda relativamente alla gara Pisa-Torres che, secondo l'accusa, sarebbe stata aggiustata tra gli altri dall'ex direttore tecnico Rosso Blu Ercole Di Nicola. La lista però potrebbe allungarsi qualora tutti i filoni emersi dall'inchiesta della Procura di Catanzaro venissero riuniti. In quel caso l'Aquila potrebbe dover rispondere di altre sei partite, le due con il Sant'Arcangelo, Savona, Tutto Cuoio, Pistoiese e Grosseto. Se la Procura federale dovesse riconoscere ancora una volta la responsabilità oggettiva del sodalizio aquilano, pertanto la penalizzazione potrebbe essere ancora più pesante e l'undici aquilano rischia di dover partire con un handicap ancora più difficile da recuperare. Siamo in apprezzione da un lato perché comunque il giudizio è la prima volta che ci capivano di incappare in una questione del genere e sicuramente non abbiamo l'esperienza, quindi ci rimettiamo al lavoro che hanno svolto con molta puntualità i nostri avvocati e siamo comunque fiduciosi di poter dimostrare in tutte le nostre sedi opportune che ci verranno in cui avremo la possibilità di farlo, la nostra estranetà ai fatti. Lo sappiamo benissimo che da quando le cronache sono state riempite dai fatti che contestano al nostro ex collaboratore, così come a tante altre persone, sapevamo benissimo che la stagione che era alle porte e che ormai è iniziata sarebbe stata complicata, ma non per questo dobbiamo essere sconfitti e battuti in partenza. C'è più ansia o determinazione in vista della prossima stagione? Credo determinazione, determinazione perché le difficoltà all'Aquila le abbiamo sempre avute storicamente, io sono qui da prima del terremoto quindi le ho vissute diverse, abbiamo avuto stagioni esaltanti, anche alcune meno, è un po' il ciclo dello sport e del calcio anche questo, non si può sempre essere in betta. Quest'anno è una stagione sicuramente in cui cambieranno un pochino gli obiettivi, ma altrettanto non è detto che non ci si possa divertire. È tutto anche per oggi, grazie per averci scelto, buona serata a tutti.